weh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi state pronti perché i prossimi giorni saranno veramente fantastici per quello che riguarda un pochettino il come dire al di fuori del gameplay di fortnite si ragazzi perché stanno per arrivare le votazioni nello shop titolo del video di oggi pazzesco quello che è stato scoperto si potrà scegliere cosa far tornare in game e voglio farvi vedere ovviamente un bel po di cose inerenti nel video di oggi oltre allo shop a votazione parleremo anche del meteorite sì perché ragazzi non abituatevi troppo a vedere in game questo meteorite in quanto si sa che al 100% non sarà presente nella season numero 11 e vi voglio anche far vedere il perché e poi grande argomento sulla bocca di tutti in queste ultime ore di nuovo il fatto della neve molti non la vogliono più me compreso mi ha rotto di brutto questa neve perenne rivolrei ancora i prati verdi sembra uno spiraglio in arrivo per lo scioglimento della neve prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop quando sono pazzate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina raga dai vela ieri mi avete sprangallato di commenti per quale fosse stata la vostra miglior kill oggi voglio farvi una domanda un pochettino più facile un pochettino più particolare ragazzi ma ti piacciono queste sfide che ci sono e che ci stanno proponendo o preferivi le sfide settimanali ogni giovedì sì perché ragazzi questa è la prima season dove non abbiamo le challenge settimanali stelle non ce ne sono sono un po diverse le cose io personalmente preferisco i gruppi di sfide che però devono garantirci un po di regali quindi mi piace un botto che ci danno schermate di caricamento mi piace un botto che ci danno stelle del pass battaglia e ovviamente mi piace un botto che ci diano gli stili per le skin del pass fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande i bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a a parlare a confermare aiaiai una cosa ieri ne avevamo parlato per la promozione del note 10 infatti nella notte di ieri è stato reso pubblico il samsung galaxy note 10 purtroppo alla convention suspension samsung non ha confermato nessuna skin per fortnite non sappiamo se per caso si stiano riservando di farci il sorpresone non credo che siano persone che facciano il sorpresone quindi al 90 per cento non ci sarà con l'uscita del note 10 la skin relativa per il nostro fortnite e andiamo avanti ragazzi invece parlando del meteorite come vi avevo anticipato a inizio del video sappiamo che non è possibile che questo meteorite rimanga nella season 11 per un paio di motivi motivo numero uno la season 11 quasi certamente sarà di nuovo ambientata a tema di halloween il fortnite mers ragazzi l'evento più importante per lo staff di epic games io mi aspetto veramente tantissima roba per questo fortnite mers 2019 quello dell'anno scorso è stato meraviglioso quello di due anni fa è stato veramente fantastico con l'introduzione del lancia zucche e di tante altre cose carine ma quello dell'anno scorso ha proprio visto una modifica della mappa non a caso la season 6 è stata una delle mie preferite in assoluto sia per le skin che per le modifiche alla mappa ma noi abbiamo visto nel trailer ragazzi che il meteorite sebbene si sia fermato molto vicino alla terra in realtà in game non è così vicino come ci fa vedere il trailer si sta muovendo piano 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 quindi le soluzioni sono due o il meteorite impatta nuovamente sul terreno si ricrea il foro di sprofondo stantio o altrimenti il visitatore che è arrivato dal meteorite ritorna e lo porta via la domanda che ci facciamo è questo visitatore dove caspita è finito perché c'è la capsula dentro vuota aperta beh qualche idea possiamo farcela guardando proprio i magazzini è apparsa un'antenna sul tetto del secondo magazzino antenna molto particolare una parabola che va molto a richiamare le comunicazioni verso i satelliti lo spazio e se andiamo a guardare nei magazzini si stanno accumulando dei macchinari molto molto simili a quelli presenti nella come chiamalo si chiama nella sede segreta la base segreta dei cattivi la chiamavamo noi quella praticamente dietro spiagge snob dove c'è l'insenatura nella montagna ed effettivamente è molto interessante come appunto stiano apparendo queste novità nei magazzini che lasciano proprio intendere che o possa succedere qualche cosa o altrimenti il visitor ha in mente di far casino tra l'altro c'è un'immagine molto interessante che è stata presa dalla mappa e come vedete di nuovo il cerchio azzurro intorno a una location ve lo ricordate lo abbiamo visto qualche giorno fa è il cerchio azzurro che ha modificato neopinnacoli trasformandola in tilted town probabilmente ragazzi anche qua ci sarà un cambiamento e potremmo già dire addio ai nostri bellissimi magazzini ma andiamo avanti ragazzi e parliamo finalmente dello shop a votazione mettiamoci comodi perché qua c'è da spiegare un po' di cose allora è stato trovato un bel po' di codice nei codici sorgenti che ci fanno capire come funzionerà voglio leggervi alcune stringhe cosa succede allora string choose and winner own quantity sold out lockhead on sale percentuale off percentuale off cosa vogliono dire vuol dire questa cosa sarà disponibile una votazione non si sa se quotidiana o se settimanale mensile che prevederà la scelta di un oggetto da far tornare nello shop l'oggetto che torna nello shop si può capire da queste righe che sarà a tiratura limitata nel senso potrebbero essercene 5.000 2.000 non saranno infiniti come lo shop che sappiamo adesso quindi comunque anche se tornassero degli oggetti dovremmo essere veloci a prenderli sappiamo anche che probabilmente nello shop torneranno degli oggetti scontati quindi gg magari un piccone che ti può costare 800 te ne costa 500 c'è una percentuale di sconto sappiamo del 20 per cento ma sappiamo che quello 0 per cento off potrebbe stare a significare un una percentuale di sconto variabile abbiamo altre stringhe che ci dicono il prezzo rimarrà per quindi anche lo sconto sarà a tempo limitato il che ci fa pensare se magari ne abbiamo un quantitativo limitato scontato e poi si paga a prezzo pieno non lo so soprattutto queste altre tre righe il prezzo rimane for un tot di numero di oggetti e poi si dice sbloccabile a livello 5 sbloccabile a livello non si sa questo è puro mistero ragazzi non saprei dirvi che cosa sia questo livello 5 non ne ho assolutamente idea non credo che si tratti del livello del pass battaglia del personaggio e chiudendo ragazzi si vede proprio anche come nei codici ci siano ci sia scritto il vincitore degli oggetti scelti tornerà nello store voglio farvi vedere ragazzi un concept meraviglioso prima di salutarvi di un utente che ha fatto questa cosa che secondo me merita tantissimo e che è stata veramente super votata questo potrebbe apparire all'inizio di ogni shop alle due del mattino o alla una se fosse inverno e selezionando la vostra scelta potrete tornare il giorno dopo per vedere se l'oggetto che avete scelto la skin il deltaplano il piccone tornerà nello shop oppure ne tornerà un altro insomma ragazzi tantissime novità che stanno per arrivare con le prossime patch tantissime novità in game nello shop questa season super super pollicione in su io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel like non dimenticate di iscrivervi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao 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 ciao